E' chiusa ormai da 55 giorni. Dal giorno del crollo di una consistente parte del muro esterno della tenuta che fu dei Davalos, via Santa Lucia è divisa in due, interdetta al traffico per motivi di sicurezza dal 17 marzo scorso. Stiamo attendendo, dice Giuseppe Del Moro, comandante della Polizia Municipale, una relazione dettagliata dell'impresa proprietaria del terreno e della struttura riguardo all'appuntellamento e alla messa a norma. La relazione verrà consegnata all'ufficio urbanistica del comune che la esaminerà e poi trasmetterà ai vigili urbani per consentire la riapertura alla circolazione. Stiamo per produrre la relazione tecnica dell'ingegnere incaricato di certificare la messa in sicurezza del rudere, dice Lucio Moscato, l'imprenditore titolare dell'impresa proprietaria dell'area dell'antica villa dei Davalos. Quando fu costruita via Santa Lucia, afferma Moscato, fu sottratto del terreno per uno spessore di mezzo metro, indebolendo le fondamenta, ma dopo lo scavo la struttura non è stata rinforzata. Io, promette Moscato, voglio riportare la chiesa e la villa dei Davalos all'antico splendore, con un investimento da oltre un milione e mezzo di euro.